fatti 1030 metri di slivello qui c'è il bivio per il rifugio barbara allora non ci andiamo rifugio barbara e ne mancano 700 e ora è tutto sterrato quelle barane e il cielo comunque si si dobbiamo andarci in andy 700 se ne facciamo 2100 all'ora sono 20 minuti no 2085 metri anche se il cappello dice 2000 quota 2300 mancano 100 metri 150 di dislivello e ne abbiamo fatti 1606 con quasi 16 chilometri da bobbio pellice siamo al col baran abbiamo mangiato una crosta di formaggio che il gestore ha avuto il coraggio di chiamare panino c'è un pezzo di grana che negli altri posti si chiama antipasto regalato sul bancone con due fettine di pane finto e l'ha chiamato panino con due lattine adesso vediamo carlo quanto paga cielo si sta rabbuiando e adesso partiamo andiamo al germe dove non ci fermiamo anche perché credo che sia pieno allora cole dell'orina e cole della croce e orto botanico peccato che non ci sia il sole perché ci sono dei colori bellissimi ciao 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 villanova adesso andiamo a chiedere che fate mangiare la trattoria villanova fai tu che parli la lingua mangiare cibo gnam 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 qui arriviamo mica da allora com'è niente mi ha detto che c'è una cena stasera la barra di bagna causa quindi sono incasinati vabbè allora andiamo giù a presto a presto a presto al momento di Grazie a tutti.